Musica 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 お願いします Ragazzi becca un macello per me Becca troppo troppo No ho finito tutto mannaggia Comunque cosa vi stavo dicendo Adesso bisogna fare veloze Allora ragazzi scusate Ecco ho tornato Comunque vi stavo dicendo Che appunto se riuscirò a caricare in tempo Questo video e appunto Voi lo apprezzerete del tipo raggiungiamo E mille mi piace Io vi cercherò di fare anche questo video Magari spesare vacanza natalizia Ranocchia e gatto Dove appunto vi faccio vedere magari il posto Qui sono l'attrezzatura che io uso Per svobordare Quindi mi sembra una cosa abbastanza tattica E questo pacchetto Mi sta andando letteralmente bene No dai non No Allora Non scherziamo Non ci sta andando malerimo questo pack opening Comunque adesso da quanto sto registrando Sto già registrando da 3 minuti Ci vorranno 2 anni per caricarlo No ne apriamo ancora 3 velozzi Velozzi Messi Io nel Messi ragazzi Io nel Messi E andiamo a scoprire Cosa Vedi se ci fanno un po' sulla Perché magari mi sentono i vicini Che sono tedeschi Vediamo Vediamo Madone Carvajal 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 Non c'è piasta Infatti Così abbiamo entrato nel club E andiamo ad aprire il prossimo pacchetto Vediamo un attimo Allora Io farei torna Qua Boom Questo è Puteco Poi ragazzi Intanto voi come state Spero Che video vi si carichi in tempo Dai Noi ci proviamo Victor Valdez Oh minchia Non sta andando malissimo Victor Valdez Non ho idea di quanto costi Però lo scopo sono 85 Sono 83 Quanto è veloce Conserviamo tutto nel club Ultimo pacchetto Vogliamo andare per l'ultimo pacchetto E andiamo ad aprirlo Innanzitutto poi ragazzi Ovviamente vi chiedo scusa Per avervi caricato questo video Abbastanza fatto al momento Però come vi ho già detto C'è un motivo Logico Preciso Che è appunto quello che A parte che non ho qua niente Per fare il trimito Oltre al pc Di mia madre Ma poi Ormai c'è sempre questa coppia Ma poi Appunto mi ci metto Un'internità A caricarlo Quindi adesso Andiamo a saltiamo Questo lo saltiamo Vediamo cosa abbiamo trovato E abbiamo trovato Cavallero Oh my god Le basta Che schifo E allora ragazzi Detto questo Io Il video è finito Spero vi sia piaciuto Quindi detto questo Vi ricordo di essere Un bel piace Un bel commento Mi raccomando Fatemi sapere Se volete il video Dello speciale Settimana Bianca E Quindi detto questo Vi saluto di come vedete A parlare Sì in un prossimo video Bolla Sì in un prossimo video Sì in un prossimo video